Allora queste iniziative sono inquadrate anche nella recente normativa relativa agli esami di Stato dove appunto c'è una sezione specifica cittadinanza e costituzione da discutere all'interno del colloquio e quindi abbiamo recepito in pieno diciamo le direttive per lo sviluppo di queste competenze trasversali che appunto prevedano che gli studenti, i giovani adulti della nostra società abbiano un profilo in uscita anche in quelle competenze base sulla sicurezza stradale ma non solo facciamo anche interventi sulla sicurezza diciamo degli edifici scolastici per quanto riguarda proprio le norme base quindi questo è uno dei primi interventi e ne faremo anche altri da qui a venire Queste iniziative sono inquadrate anche nella recente normativa relativa agli esami di Stato dove appunto c'è una sezione specifica cittadinanza e costituzione da discutere all'interno del colloquio e quindi abbiamo recepito in pieno diciamo le direttive per lo sviluppo di queste competenze trasversali che appunto prevedano che gli studenti, i giovani adulti della nostra società abbiano un profilo in uscita anche in quelle competenze base sulla sicurezza stradale ma non solo facciamo anche interventi sulla sicurezza diciamo degli edifici scolastici per quanto riguarda proprio le norme base quindi questo è uno dei primi interventi e ne faremo anche altri da qui a venire Siamo con Isia della Ragione qui a liceo Seneca della associazione L'Angelo Azzurro Luigi della Ragione allora quanto è importante insegnare ai propri figli e ai propri alunni l'educazione stradale? Buongiorno, è molto importante fare la prevenzione soprattutto nelle scuole dove nei giovani, dove l'età è molto critica adolescente quindi bisogna dargli un aiuto perché la gioventù lo sappiamo i ragazzi pensano che il mondo è tutto loro e quindi noi come genitori dobbiamo fare la nostra parte io mi sto dando da fare per dare un contributo a questi ragazzi stamattina qua a scuola alla Seneca di Torregave da dove mio figlio si è diplomato ho visto tanti ragazzi attenti alle mie parole io sarò sempre vicino cercherò di dare, dalla mia disgrazia, dare un aiuto a questi giovani però bisogna fare la parte tutti la deve fare la scuola, molto importante i genitori, noi dobbiamo stare attenti e le istituzioni che devono con le pene e con le dovute regole farle rispettare se tutti insieme ci mettiamo d'accordo forse un giorno potremmo dire che abbiamo abbassato queste morti per incidente stradale grazie grazie grazie